Salve a tutti i tarpapi, mi dovete dire secondo voi chi è la peggio, guarda ditemi un po' chi è la peggio, mi dovete dire proprio voi perché io non riesco proprio a capire chi è la peggio, assolutamente, guarda, tra tutti quanti, guarda, guarda quell'altra, sempre in mezzo sta, guarda, guarda chi è la peggio, guarda, guarda rompe scatola a tutti, non c'è niente da fare, guarda che quando c'è la peggio, guarda, 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 non gli dà un attimo di tregua, non gli dà un attimo di tregua, ditemi voi chi è la peggio tra Olga, Noah e Cesarone, ma che stai a dire Cesarone, ma che stai a dire, ma pure i denti stai a far vedere Cesarone, ma non c'è segreto, guarda, vabbè, no scusate, c'è anche chi controlla tutto da lontano, la meravigliosa nostra, bella, che domani se ne va, amore mio, vita mia, bella, 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 sei tu, stamattina per fare l'uscita bella da dentro la cuccia, ci voleva solamente il capitano, niente, non voleva uscire, la domenica mattina, lei si alza un pochettino più tardi del solito, tutti i pelosetti si alzano verso le sette e mezzo, invece lei si alza verso le undici e trenta, giusto per avvisare proprio gli adottanti di bella, dove andiamo, bella, passiamo da là che è un po' più semplice, ma brava, è contenta bella, perché è arrivato il nostro capitano, vedi, gli ha fatto un sacco dei coccole e lei, Olga, è tremenda, Olga è veramente tremenda, eccola, Olga sta qui, bella sta lì, tutti impegnati nel rifugio di Maenza in provincia di Latina, scusi non ho capito, è perché prende poco qua, abbiamo anche la visita del nostro capitano, attento, apri piano perché abbiamo le belve feroci, guarda che belve, tutte stanno facendo, sì, accoglienza al nostro capitano, venite qua, venite qua, aspettate, aspettate, namo, 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 il capitano è magro, magro, passa subito, va, se dovevo passare io ci voleva, per il momento tre, namo, tutti appresso al capitano, dai, buongiorno, la nostra domenica continua nella maniera migliore con le visite anche, namo, 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 guarda che belli, tante coccole, ai nostri cuccioli anche da parte del capitano, come si chiama la pecorella? La pecorella Noa, poi ci abbiamo Cesarone e questa è Olga la piccolina, siamo nel rifugio grande di Maenza, chi fa coccole perosetti, chi fa i video e chi lavora giù in fondo, veramente la bella organizzazione, indovinate di tutti quanti chi è quello che non fa niente? Vabbè, lasciamo a immaginazione la vostra risposta, buongiorno a tutti dal rifugio di Maenza. Salve a tutti di Arpavi, momenti di gioco nel rifugio grande di Maenza, in provincia di Latina, con Scodin Solanda, associazione del posto, Italia a quattro zampe, sapete che noi curiamo tutti questi piccolini che ci sono qui dentro, allora, lei è Olga, la più piccola di tutti ma si fa sentire abbastanza e lei invece Noa, la maremmanina che è sempre abbastanza solitaria però anche lei ogni tanto sa rabbia perché giustamente loro gli danno il tormento perché Olga è davvero tremenda, Cesare, Cesare niente, è impegnato da un'altra parte, Cesare vieni, vieni Cesarone, vieni, Cesarone va a cercando sempre la roba da mangiare in giro, è incredibile, gioca con tutte le cose pesanti perché lui è pesante, riesce a prendere davvero di tutto, Olga dove vai? Olga piccolina e poi abbiamo Noa, tutto questo di domenica mattina nel rifugio di Maenza in provincia di Latina, c'è una maremmanina, sono le pecore che devono brucare, no te, guarda che roba e va bene, allora un po' più vicino così facciamo vedere anche la violenza di questi due pelosetti ma soprattutto della più piccola che adesso sta attaccando, sta attaccando al muso della maremmanina che la sta sdraiando, poverina, 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 Olga basta, Olga, non si possono fare queste cose, Cesare invece si è proprio estragnato da tutto, se n'è nato, vedete Olga, è una piccola mostriciattola, non c'è niente da fare, pure Noa si difende abbastanza bene, comunque questa è la nostra domenica mattina, non so la vostra come va, però la nostra sta proprio così. Grazie per la visione!